La rigenerazione urbana di Cremona coinvolgerà quartieri, aree e cittadine, ma anche zone di interesse naturalistico e per la prima volta il distretto urbano del commercio. Il primo passaggio in Commissione Territorio prelude all'esame di giunta del documento che riguarda decine di interventi in diversi ambiti, pronti per poter accedere ad appositi bandi regionali per essere finanziati e attuati. Alcuni contesti sono già noti, inseriti nell'attuale PGT, come l'ex SNUM. Ci sono l'ospedale San Francesco, Piazza Lodi, Villa Gloria, la caserma La Marmora, Piazza Roma e poi c'è il parco del poi del Morbasco, l'area Frazzi, l'arena Giardino e tanto altro. La nota interessante è per la prima volta l'inclusione delle gallerie 25 Aprile Kennedy e del centro storico per consentire interventi a favore del distretto urbano del commercio a fronte delle oltre 100 chiusure registrate a fine dicembre. Si parla di un meno 1,8% alla fine del quattro trimestre di chiusure per quanto concerne il commercio. Questo vuol dire più di 100 attività chiuse. Tantissime sono società individuali. E non è finita, perché fino al 31 di gennaio ci può essere la cancellazione delle imprese. Ci fa molto piacere che è stato inserito anche il distretto urbano del commercio nel piano di rigenerazione urbana, in quanto il distretto urbano del commercio vede tanti aspetti della città. Sono state inserite ad esempio le gallerie. Auspico che venga inserito a 360 gradi, per cui si possa andare a ragionare, come ho detto poco anzi, sulle gallerie, che si possa ragionare sui parcheggi, sul piano affitti, che si possa ragionare anche sugli abbattimenti di tributi e quant'altro. Penso a Cosa, Tari, Ica e quant'altro. Ci sono tanti negozi vuoti. Ricordo che le chiusure delle attività non sono state di un mese, due mesi, tre mesi, ma sono state di circa un anno. Bisogna fare un lavoro di programmazione anche, sia immediato, ma anche di programmazione, dal centro storico.